Cosa penso del voto in condotta? Sono molto critico con questo ministro dell'istruzione del merito, alcune sue uscite non mi sono per niente piaciute, per esempio il richiamo medievale all'umiliazione pubblica e altre sortite di questo tipo, ma sul tema del voto di condotta come discriminante rispetto a un curriculum formativo e sono pienamente d'accordo. Non sarà questo a risolvere i problemi della scuola, che sono di tutt'altra natura e dunque si attenderebbe da un ministro anche una riflessione più ampia sulla problematica della scuola che a quanto pare fino a questo momento non c'è stata, ma su questo preciso punto del voto di condotta io mi sento di concordare con il ministro, io penso che il mestiere dell'insegnante non è un mestiere repressivo, un insegnante non è un tutore dell'ordine, un insegnante non è un poliziotto, ma mettere in valore che esistono comportamenti di cittadinanza che si sperimentano già nella vita di gruppo, a scuola e nel rapporto con gli insegnanti è importantissimo in un tempo come il nostro che calpesta sistematicamente il senso della legge.